Si incomincia ragazzi questa gara, siamo in 7 con le moto Allora io ho preferito prendere la mia Batty Boyer invece che la Cuccio Dato che ci sono i veicoli personali E quindi ragazzi ovviamente prendo la Batty Boyer perchè è migliore nei salti Ecco ragazzi, primo salto perfettamente andato Io l'ho detto che la Batty Boyer è migliore nei salti Infatti primo salto e io sono subito morto ragazzi E' incredibile Ok ragazzi il checkpoint l'ho preso A meno il checkpoint l'ho preso però Sono morto ma fa niente Ricontinuiamo sopra questo container Occhia alle rampe, vediamo un po' tutto in discesa Perfetto Il checkpoint deve essere distante Merda, non so se ce la faccio a prenderlo Vediamo, si forse si L'ho preso, forse prendiamo anche il secondo No però Ho preso solamente il primo Ma non c'è problema perchè noi spawniamo sempre là sopra Allora adesso riprendiamo il checkpoint Fermati Beh no, vabbè dai Ok ragazzi, preso il checkpoint Sono sempre morti in ogni volo Come tutti ma fa niente ragazzi Allora l'importante è essere atterrati per strada E sono anche primo, meno male Allora Dai vati boyer Non mi illudere Allora qui Adesso siamo sulla strada Acceleriamo un po' Allora vediamo un po' Allora qui siamo dentro parcheggio Proviamo a prendere tutti i checkpoint Senza possibilmente andarci a scantare Ok Rampe qua Perfetto ragazzi Perfetto Allora al momento questa gara Già mi piace Scorrevole Non ci sono pezzi che bloccano Il percorso Uno mi sta raggiungendo dietro Merda Noi continuiamo il nostro percorso tranquilli Allora Prendiamo questo checkpoint Perfetto Speriamo che quello non mi raggiunga Perché lo vedo già troppo veloce quello lì Allora prendiamo anche questo Gente che si suicida ancora Incredibile Allora No merda Ho mancato la rampa Incredibile No incredibile ragazzi Cioè non ho visto questa rampa qua ragazzi Incredibile Che Fottuto genio che sono Ragazzi Sono secondo Ormai diventa impossibile È proprio flash il primo Incredibile Ma superato Perché non ho visto la rampa Ho sbagliato strada E quello Logicamente mi supera Merda ragazzi Ancora Però Devo dire che sono secondo Essere secondi ragazzi Non è mai male Perché Sono sempre sul podio Prendiamo checkpoint Occhio le auto Ok Prendiamo tutti i checkpoint Possibilmente Al momento ragazzi Rampe non ce ne sono più Ce ne erano solo Qualcuna A inizio gara Ma poi È tutta così la gara Però ragazzi Mi piacciono le gare scorrevoli Perché comunque Non ti fermi ogni seconda Quindi È più carina Perfetto Il primo si è suicidato Dove c'è il checkpoint Ragazzi Dai Dai Ragazzi primo Non ci posso credere Quello si è suicidato All'ultimo Sono arrivato primo Quello si è suicidato E sono arrivato primo Ragazzi Per fortuna Una gara In cui termino In prima posizione Seconda gara Ancora Sempre Con le moto Questa volta Sempre con la mia Bati Boyer Allora Iniziamo col turbo Siamo in 6 E questa gara È a giri Perfetto Ok Sono stato anche sopra Incredibile Allora Sono primo subito Già di partenza Allora Di nuovo No Merda Però Non potete Venire addosso così Cazzarola Adesso sono secondo Non è possibile È una guerra No Che cazzo fa quello Non è incredibile È incredibile ragazzi Cioè Sono secondo così Merda Merda Allora Vediamo un po' Perfetto Sono rimasto anche sopra Che genio No Oddio Oh madonna Mi era anche venuto addosso quello Non ci credo Non ci credo Dai Perfetto Beh dai Diciamo che comunque Termino in secondo Quello che fa Quello li fermo Perfetto È una gara Veramente molto corta È cortissima questa gara È stata carina Perché È bello quel pezzo Ma veramente Troppo corta Termino in Seconda posizione Ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale E Da Orcoverde è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Bella